Un'eccellenza come può essere il panno del casentino che, basta dirlo, è già nella vallata le famiglie, anche le donne che hanno lavorato a questo lanificio, perché poi era quello. Davide Savelli, la terza generazione, hanno dato lustro a un qualcosa. Adesso avete fatto le borse, i cappelli. Sì, è un prodotto che si presta a tutto, non c'è sciupo. Quindi dai fiori alle borse, cappelli, mantelle, poi chiaramente capi spalle. Senti, ma i bambini, quando vengono con le scuole, perché voi volete far conoscere ai ragazzi, alle nuove generazioni che viaggiano sempre col telefonino, sei tu che ti occupi di questo? Sì, sì. E che i ragazzi quando vedono i telai, che cosa dicono questi ragazzi? E fanno tante domande anche intelligenti. È bello spiegargli, diciamo, che da lì esce un tessuto grezzo che magari può non dire niente agli occhi, però alla fine dopo tante lavorazioni si arriva a questo prodotto. È il tatto, perché questo panno nasce, ribadisco, in un modo tale da dare un'emozione anche a chi lo indossa. Poi è un segno anche di distinzione, vederlo con questo ricciolo. Ricciolo e poi anche i colori classici, perché insomma mettersi un capo arancio verde distingue dalla massa, in un inverno magari nebbioso, insomma, dà un bel segno di personalità. Dà un bel segno di riconoscimento.